si diceva che una faccia nuova aveva fatto la sua comparsa sulla passeggiata lungo il mare una signora con un cagnolino dmitry dmitrych gurov da due settimane a yalta cominciava a interessarsi ai nuovi venuti seduto nella veranda del caffè vernet vide un giorno passare una giovane donna bionda di statura media con un basco seguita da un cagnolino bianco la incontrò in seguito più volte al giorno nel giardino pubblico o in piazza passeggiava sola sempre col basco e col cagnolino bianco nessuno la conosceva la chiamavano così la signora col cagnolino se qui senza marito e senza conoscenti pensò gurov non ci sarebbe nulla di male a fare la sua conoscenza benché non avesse ancora 40 anni aveva già una figlia di 12 anni e due figli che andavano al liceo gli avevano dato moglie presto al tempo in cui faceva il secondo anno di università e adesso sua moglie sembrava più vecchia di lui essa era di statura grande con sopracciglia nere rigida seria grave e come soleva definirsi da sé un essere pensante leggeva molto e trascurava di mettere il segno forte alla fine delle parole scrivendo chiamava suo marito dimitri invece di dmitri ma egli la trovava poco intelligente corta di idee e senza eleganza la temeva e non gli piaceva stare in casa da lungo tempo aveva cominciato a tradirla la tradiva spesso ed è probabilmente per questo che trattava le donne con un certo disprezzo e quando si parlava di donne in sua presenza esclamava esseri inferiori gli pareva che le amare esperienze già fatte gli conferissero il diritto di considerarli a quel modo però non avrebbe potuto vivere due giorni senza quegli esseri inferiori si trovava disagio nella società degli uomini vi si annoiava restava freddo e silenzioso invece con le donne si trovava a suo agio sapeva parlare loro gradevolmente e comportarsi nel modo più opportuno con loro persino il silenzio non lo imbarazzava c'era nel suo carattere nel suo essere qualcosa di seducente ed inafferrabile che le disponeva a suo favore e le attraeva e gli lo sapeva e sentiva una specie di forza che lo spingeva verso di loro una lunga esperienza gli aveva insegnato che ogni relazione dà all'inizio una piacevole varietà alla vita e si presenta come una gradita avventura che però si trasforma dopo tra gente per bene e specialmente tra i moscoviti che sono casalinghi e indecisi in un problema complicato all'estremo che rende infine la situazione difficile ma ogni volta che Gurov incontrava una donna carina l'esperienza gli si cancellava tutta dalla memoria provava una irresistibile sete di vita tutto gli sembrava facile e divertente ed ecco che una sera che pranzava in giardino vide la signora col basco dirigersi verso un tavolo vicino e sedersi l'espressione del viso il suo portamento l'abito l'acconciatura ogni cosa gli diceva che essa apparteneva a un ambiente rispettabile che era maritata che si trovava sola agli alta da poco e che vi si annoiava nei racconti sulla licenziosità dei costumi nei luoghi di villeggiatura c'è molto di bugiardo ed egli li disprezzava sapendo che simili racconti venivano inventati per lo più da persone che avrebbero volentieri peccato se avessero potuto tuttavia quando la signora venne a porsi a tre passi da lui si rammentò di quei discorsi di facili conquiste di gite in montagna e l'idea di una breve rapida relazione di un romanzo con una donna di cui ignorava anche il nome si impossessò di lui attirò a sé dolcemente il cagnolino e quando questo si avvicinò prese a minacciarlo col dito il cane ringhiò gurov ripeté il gesto la signora se ne avvide e abbassò gli occhi non morde disse arrossendo si può dargli un osso la signora fece cenno di sì e allora gurov chiese con aria affabile è molto che siete a yalta cinque giorni per me tra poco saranno quindici tacquero un istante il tempo passa presto disse lei senza guardarlo non di meno ci si annoia assai tutti amano dire che qui ci si annoia gente che abita non si sa dove a belev o a zindra e non vi si annoia appena arriva qui grida ah che noia che polvere si direbbe che vengano da granata e la rise continuarono a mangiare in silenzio come ignorandosi a vicenda ma dopo cena se ne andarono a fianco l'uno dell'altra e si avviò una conversazione facile scherzosa come fra persone libere contente alle quali non importi dove si va e di cosa si parla parlavano della luce strana del mare l'acqua era di un violetto tenero e caldo e la luna vi tracciava una striscia dorata parlavano dell'aria pesante dopo una giornata così calda gurov narrò che era di mosca che aveva fatto degli studi filologici ma che adesso era impiegato in una banca che a un certo momento aveva voluto essere artista in un teatro d'opera e però più tardi aveva abbandonato quel progetto che possedeva due case a mosca e da lei venne a sapere che era stata educata a pietroburgo ma si era meritata a dove dimorava da due anni sarebbe rimasta lì a yalta ancora un mese suo marito che aveva lui pure bisogno di riposo sarebbe probabilmente venuto lì a trovarla fu incapace di spiegare in quale ufficio il marito fosse impiegato se alla direzione del governatorato o alla delegazione dell'assemblea provinciale e di ciò rise lei stessa gurov seppe anche che si chiamava Anna Sergevna rientrando pensò a lei si disse che l'indomani l'avrebbe incontrata senza dubbio ancora e che non poteva essere altrimenti coricandosi pensò che ancora non molto tempo addietro essa era una piccola collegiale come sua figlia lo era attualmente ricordò quanta timidezza e imbarazzo c'era nel suo ridere e nella sua conversazione si sarebbe detto che fosse la prima volta nella sua vita a trovarsi sola la prima volta che era seguita che era guardata che si parlava con uno scopo segreto che essa non poteva non indovinare ricordò il suo collo esile e flessibile i suoi begli occhi grigi eppure c'è in lei qualcosa che fa pena pensò addormentandosi una settimana era trascorsa dal giorno in cui si erano conosciuti era un giorno festivo dentro le camere si soffocava e fuori il vento sollevava turbini di polvere portava via i cappelli si era di continuo assetati e gurov andava spesso nel padiglione dello stabilimento balneare e portava a Anna Sergevna dello sciroppo o dei gelati non si sapeva dove rifugiarsi per fuggire il caldo la sera quando cominciò a fare fresco si recarono sulla scogliera all'arrivo di un battello sull'imbarcadero vi era molta gente venuta ad aspettare qualcuno con in mano dei mazzi di fiori anche qui saltavano agli occhi le due particolarità del pubblico elegante di Yalta signore anziane vestite come le giovani e molti generali il mare era agitato il battello giunse tardi dopo il tramonto bordeggiò a lungo prima di attraccare Anna Sergevna guardava con l'occhialino il battello e i passeggeri come a cercare qualcuno di sua conoscenza quando si volse verso Gurov gli occhi le brillarono parlava molto i suoi discorsi erano sconnessi scordava subito ciò che poco prima aveva chiesto alla fine perdette il suo occhialino nella folla la folla elegante si disperse non si distinguevano più le persone il vento si era accalmato del tutto Gurov e Anna Sergevna indugiarono come se avessero atteso qualcuno che doveva scendere dal battello ora la donna taceva e odorava un mazzetto di fiori senza guardare Gurov si sta un po' meglio egli disse andiamo da qualche parte? volete fare una passeggiata in vettura? lei non rispose nulla allora egli la guardò fisso e a un tratto prendendola fra le braccia la baciò sulla bocca avvertì il profumo e la freschezza dei fiori guardò furtivamente intorno temendo che lo avessero veduto andiamo da voi le disse a bassa voce e si missero a camminare in fretta nella stanza di lei l'aria era soffocante impregnata di un profumo che essa aveva acquistato in un negozio giapponese Gurov la guardò pensando agli incontri che si fanno nella vita si ricordava di donne incuranti che l'amore rendeva gaie riconoscenti della felicità che aveva lordato anche quando quella felicità era stata assai breve ricordava altre donne come la sua che amavano senza sincerità con grandi frasi e atti isterici quasi si trattasse di cose altrimenti importanti che non d'amore e passione ricordava due o tre altre donne bellissime e fredde il cui viso esprimeva così a un tratto un'autentica ferocia un desiderio ostinato di prendere di strappare alla vita più di quanto essa può dare non erano più donne nella prima giovinezza però capricciose autoritarie poco intelligenti incapaci di ragionare quando Gurov diveniva nei loro riguardi più freddo la loro bellezza destava in lui una specie di odio e i pizzi della loro biancheria gli apparivano come scaglie di pesci invece in questa giovane donna vera mancanza di ardimento maldestra e inesperta giovinezza e un sentimento di disagio e tutti e due restavano inquieti come se da un momento all'altro stessero per bussare la porta Anna Sergevna la signora col cagnolino prese un atteggiamento singolare di fronte a quel che era accaduto si sentiva che si considerava ora come una donna perduta così almeno pareva e ciò sembrava strano inopportuno i suoi tratti erano tirati e quasi vizi i lunghi capelli le pendevano ai lati del viso rimaneva appensosa oppressa come una peccatrice nelle vecchie immagini ciò è male disse voi sarete il primo ora a disprezzarmi Gurov tagliò una fetta d'anguria che stava sul tavolo e non rispose mezz'ora passò in silenzio Anna Sergevna era commovente manava da lei la purezza di una donna onesta che ha vissuto poco una sola candela posata sul tavolo rischiarava appena ai suoi dinamenti ma si indovinava che soffriva dentro nell'anima perché dovrei cessare di stimarti le chiese Gurov non pensi a quello che dici che Dio mi perdoni disse lei e i suoi occhi si riempirono di lacrime è terribile non hai bisogno di giustificarti e come potrei giustificarmi sono una donna volgare bassa e mi disprezzo e non penso neanche a giustificarmi non ho tradito mio marito ma me stessa mio marito è forse un uomo onesto buono ma è un lacché non so cosa faccia quali mansioni abbia so solo che è un lacché quando mi sposai avevo vent'anni avevo la curiosità di conoscere una vita migliore poiché mi dicevo questa esiste e avevo voglia di vivere vivere bruciavo di questa curiosità voi non comprenderete forse ma io vi giuro che non potevo più contenermi avveniva in me qualcosa di indefinibile alla fine non resistetti più dissi a mio marito che ero ammalata e veni qui qui sono stata per tutto il tempo come sperduta come folle ed ecco sono diventata una donna come tante altre che chiunque può disprezzare questo discorso cominciava ad annoiare Gurov il tono innocente lo irritava e un simile pentimento era così inatteso e fuori luogo che se la giovane donna non avesse avuto gli occhi colmi di lacrime si sarebbe potuto credere che scherzasse o recitasse una parte non comprendo disse piano cosa vuoi insomma essa nascose il viso nel suo petto e si strinse a lui credetemi credetemi io amo la vita onesta pura e il peccato mi è odioso non comprendo io stessa ciò che faccio si dice tra la gente che le tentazioni sono del diavolo e davvero posso dirlo ora di me è il diavolo che mi ha tentato via basta basta mormorò lui guardò gli occhi di lei smarriti e fissi la baciò e le parlò dolcemente con tenerezza e a poco a poco essa si calmò e tornò a essere allegra entrambi si misero a ridere quando uscirono sul molo non c'era più nessuno la città coi suoi cipressi sembrava morta ma il mare era sempre agitato e si infrangeva contro la riva una barca beccheggiava sulle onde e su essa un piccolo fanale gettava una luce fioca presero una vettura e andarono a Orianda ho appreso poco fa il tuo nome disse Gurov l'ho letto giù in portineria sul quadro era scritto Von Dideritz tuo marito è tedesco? no suo nonno credo fosse tedesco ma lui è ortodosso a Orianda si sedettero sopra una panca non lontano dalla chiesa e guardarono il mare senza dir nulla si distingueva appena Ialta attraverso la caligine mattutina in cima le montagne stavano appese delle nuvole bianche le foglie degli alberi non si muovevano delle cicale cantavano e il brusio monotono e sordo del mare giungendo dal basso parlava del riposo e del sonno eterno che ci attende al tempo in cui né Ialta né Orianda esistevano il mare brusiva già così si sentiva quello stesso suono e altri per chissà quanto tempo l'avrebbero inteso così indifferente e sordo in questo permanere in una tale indifferenza alla vita e alla morte di ciascuno di noi sta forse racchiuso il principio della nostra eterna salvezza del moto incessante della vita sulla terra e dell'incessante perfezionamento seduto al fianco della giovane donna che appariva così bella nel chiarore dell'alba calmato e incantato alla vista di quello scenario fantastico del mare delle montagne delle nuvole del vasto cielo Gurov pensava che infine se ci si riflette tutto è bello in questo mondo tutto all'infuori dei nostri pensieri e delle nostre azioni nei momenti in cui dimentichiamo i fini ultimi dell'esistenza la nostra dignità umana un uomo un guardiano senza dubbio si appressò a loro li guardò e continuò il suo cammino persino un particolare simile sembrò loro misterioso e bello si vide arrivare a lumi spenti illuminato dall'aurora un battello che veniva da Teodosia c'è della rugiada sull'erba disse Anna Sergevna rompendo il silenzio si è tempo di tornare rientrarono in città si ritrovarono in seguito ogni pomeriggio sul molo pranzavano cenavano insieme passeggiavano ammiravano il mare Anna Sergevna si lagnava di dormire male e di avere delle palpitazioni di cuore poneva a Gurov sempre le stesse questioni turbata dalla gelosia e dal tibore che egli non la stimasse abbastanza spesso in piazza o nel giardino allorché nessuno stava vicino a loro egli l'attirava a sé e la baciava appassionatamente l'ozio assoluto quei baci in pieno giorno accompagnati da uno sguardo furtivo nel timore di essere visti il caldo l'odore del mare il viavai continuo di una folla ghindata inattiva sazia l'avevano interamente rianimato diceva ad Anna Sergevna come fosse bella e seducente si mostrava pieno di impazienze amorose e non la lasciava un minuto essa rimaneva spesso assorta e continuava a pregarlo di confessarle che egli non la stimava e non l'amava e la considerava una donna volgare quasi tutti i giorni la sera tardi facevano una gita nei dintorni della città a Orianda o alla cascata la gita piaceva sempre invariabilmente le loro impressioni erano belle magnifiche aspettavano l'arrivo del marito se non che Anna Sergevna ricevette da lui una lettera con la notizia che era sofferente agli occhi le chiedeva di ritornare al più presto ed essa si preparò in fretta a partire è bene che io parta disse Agurov è il destino che vuol così partì in vettura ed egli l'accompagnò il viaggio durò un'intera giornata alla stazione nel momento di salire in carrozza al secondo colpo di campana essa gli disse permettetemi che vi guardi ancora si così non piangeva ma era triste sembrava malata il viso le tremava penserò di frequente a voi disse che Dio vi protegga non conservate un cattivo ricordo di me ci separiamo per sempre è necessario così e sarebbe stato meglio non esserci incontrati che Dio sia con voi il treno partì rapido le sue luci disparvero ben presto e dopo un minuto persino il rumore non si avvertiva più come se tutto congiurasse a mettere una brusca fine a quel dolce sogno a quella follia rimasto solo sulla banchina Gurov guardava nel buio lontano ascoltava lo stridio dei grilli e il ronzio dei fili telegrafici con l'emozione di uno che si sveglia diceva a se stesso che la sua vita contava un'avventura di più un romanzetto finito ora e di cui non gli restava che un ricordo si sentiva triste provava un leggero rimorso al pensiero che quella giovane donna che non avrebbe riveduto più non fosse stata felice con lui era stato cordiale affabile ma nei suoi atteggiamenti nelle sue carezze nelle sue maniere di comportarsi con lei si era insinuata un'ombra di ironia la condiscendenza un po' greve di un uomo felice il quale era in effetti due volte più vecchio di lei essa gli aveva ripetuto con insistenza che era buono nobile straordinario le appariva dunque diverso da come era e perciò gli aveva ingannata involontariamente lì alla stazione si avvertiva già un sentore di autunno la serata era fresca è tempo che anch'io ripigli la strada del nord pensò Gurov lasciando la banchina è tempo a Mosca a casa sua tutto era già come d'inverno si accendevano le stufe e il mattino quando i ragazzi prendevano il tè prima di recarsi al liceo faceva scuro ancora e la vecchia istitutrice accendeva per un po' di tempo le luci cominciava già a gelare quando cade la prima neve il primo giorno in cui si può andare in slitta è piacevole veder la terra e i tetti così bianchi si respira liberamente a pieni polmoni e ci si ricorda dei propri giovani anni i vecchi tigli le betulle bianche di brina hanno un'aria come infantile sono più prossimi al nostro cuore che non i cipressi e le palme e accanto a loro non viene più voglia di pensare alle montagne o al mare gurov era un moscovita aveva fatto ritorno a mosca in una bella giornata di gelo e quando dopo rivestita la sua pelliccia e rimessi i suoi guanti caldi per fare una passeggiata sulla petrosca ebbe udito gli sabato sera lo scampanio delle chiese il viaggio che aveva fatto poc'anzi e i luoghi che aveva allora lasciato perdettero per lui ogni incanto inveiva contro la crimea gli alta i tartari le donne e assicurava che la svizzera è più bella della crimea si immerse nuovamente a poco a poco nella vita di mosca divorandosi tre giornali al giorno per poi asserire che non leggeva per principio i giornali di mosca ricominciarono ad attirarlo i ristoranti i circoli i grandi pranzi le feste giubilari già lo lussingava il fatto che degli avvocati noti degli artisti celebri frequentassero la sua casa e che al circolo dei dottori egli giocasse a carte con un professore di nuovo era capace di mangiarsi un'intera porzione di selianca supponeva che in meno di un mese l'immagine di Anna Sergevna si sarebbe velata nella sua memoria e non gli sarebbe apparsa che di quando in quando nei sogni col suo sorriso commovente come era accaduto con altre donne ma trascorse più di un mese si fu in pieno inverno e nel suo ricordo tutto rimaneva vivo come se non si fosse separato da Anna Sergevna che il giorno innanzi i ricordi si facevano sempre più vivi e luminosi sia che le voci dei figli che preparavano le lezioni giungessero nel silenzio della sera fino al suo studio sia che stesse ascoltando una romanza o il suono dell'organetto al ristorante o ancora che la tempesta si mettesse a ululare nel camino all'improvviso tutto riprendeva vita nella sua memoria il pensiero di quanto era avvenuto sul molo e l'alba nebbiosa sui monti e il battello che giungeva da Teodosia e i baci a lungo camminava nella sua stanza inseguendo i ricordi sorridendo poi i ricordi gli si tramutavano in fantasticherie e il passato si confondeva nella sua immaginazione con l'avvenire non vedeva Anna Sergevna in sogno però essa lo seguiva dovunque come la sua ombra allorché chiudeva gli occhi la vedeva come se fosse stata lì ma essa era ancora più giovane più bella e più tenera che nella realtà anche lui si vedeva nel ricordo assai migliore che non fosse stato allora la sera ritrovava nella propria biblioteca e presso il focolare e in tutti gli angoli gli sguardi di Anna Sergevna sentiva il suo soffio il fruscio carezzevole delle sue vesti per via seguiva le donne con gli occhi cercandone una che le somigliasse provava un bisogno imperioso di far parte a qualcuno dei suoi ricordi ma a casa non poteva parlare del suo amore e fuori casa non aveva nessuno con cui confidarsi non era ai suoi inquilini o ai colleghi di banca che avrebbe potuto fare delle confidenze d'altronde che cosa avrebbe potuto dire loro aveva amato c'era stato nella sua relazione con Anna Sergevna qualcosa di bello di poetico di edificante o anche solo di interessante era perciò costretto a parlare in modo vago dell'amore delle donne e nessuno dubitava di quanto avveniva in lui solo sua moglie aggrottava le sopracciglia scure e diceva la parte dell'uomo fatuo non ti si addice per nulla ad Mitri una volta di notte uscendo dal circolo dei medici con un compagno di gioco un funzionario non poté trattenersi e disse sapeste che donna incantevole ho conosciuto agli alta quando quest'autunno non si può dire che fosse di una bellezza eccezionale ma essa ha fatto su me un'impressione irresistibile ancora non me ne sono rimesso il funzionario prese posto nella slitta e quando questa si mise in moto si voltò ad un tratto gridandogli Dmitri Dmitrich che c'è avevate ragione poco fa lo storione non era fresco chissà perché quelle parole così banali indignarono Gurov gli sembrarono infinitamente grossolane e umilianti che costumi selvaggi che gente che notti disordinate che giornate vuote senza interesse gioco accanito ghiottonerie ubriachezza e sempre le stesse conversazioni sugli stessi argomenti degli affari inutili e un parlare monotono occupavano la maggior parte del tempo un vivere pesante assurdo strozzato da cui non si può né uscire né fuggire come chiusi in un manicomio o in un penitenziario gurov sdegnato non pote chiudere gli occhi quella notte e l'indomani ebbe mal di capo tutto il giorno dormì male anche le notti seguenti passate a meditare seduto sul letto o a percorrere la camera in lungo in largo tutto lo infastidiva i suoi figliuoli la banca non aveva voglia di uscire né di parlare alle orecchie gli ritornavano quelle parole lo storione non era fresco in dicembre nel periodo delle feste disse alla moglie che andava a Pietroburgo per occuparsi di un giovane e si recò a perché non lo sapeva nemmeno lui aveva desiderio di vedere Anna Sergevna di parlarle di ottenere da lei un appuntamento se era possibile arrivò a di buon mattino e prese all'albergo la camera migliore quella in cui un tappeto grigio come i cappotti dei soldati ricopriva il pavimento sul tavolo stava un calamaio ricoperto di polvere che rappresentava un guerriero a cavallo che alzava il braccio col cappello e a cui mancava la testa il cameriere gli dette tutte le informazioni necessarie il signor Von Tideritz abitava in via vecchia dei Vasai presso l'albergo in una casa sua era ricco aveva cavalli nella città tutti lo conoscevano il portiere pronunciava il suo nome Dridriz Gurov senza fretta si recone la via indicata e trovò la casa in faccia alla quale si allungava di fatti una gran stecconata di legno grigio sparso di chiodi è vero un simile steccato fa proprio venir la voglia di scapparsene pensò Gurov adocchiando le finestre si disse che essendo giorno festivo il marito era certo in casa sarebbe stato d'altronde una mancanza di tatto sopraggiungere così d'improvviso e portare scompiglio in casa però se scriveva le sue parole potevano capitare sotto gli occhi del marito ogni cosa sarebbe perduta meglio rimettersi al caso andò su e giù lungo lo steccato grigio in attesa degli eventi vide nella corte un mendicante e intese i cani a bagliare un'ora dopo percepì il suono fievole e indistinto di un pianoforte doveva essere Anna Sergeyevna che suonava più tardi la porta s'aprì e venne fuori una vecchia accompagnata dal cagnolino bianco che Gurov conosceva bene volle chiamare il cane ma d'improvviso il cuore gli prese a battere così forte che l'emozione gliene fece scordare il nome continuava ad andare e venire detestava sempre più lo steccato grigio pensava con irritazione che Anna Sergeyevna l'aveva dimenticato che essa si distraeva ora senza dubbio con un altro cosa del resto affatto naturale in una giovane donna costretta ad avere da mattina a sera un maledetto stecconato davanti agli occhi rientrò all'albergo salì in camera e rimase per lungo tempo seduto sul divano non sapendo che fare andò poi a pranzo e più tardi si addormentò e dormì lungamente com'è da stupidi e com'è noioso pensò svegliandosi e vedendo i vetri oscuri la sera era già scesa perché mi sono addormentato seduto sul letto dalla coperta grigia pari a quelle che si trovano negli ospedali scherniva se stesso con dispetto eccoti la tua dama col cagnolino eccoti l'avventura ora sei inchiodato qui quel mattino alla stazione aveva osservato un grande manifesto che annunciava per la sera la prima rappresentazione di un'operetta la geisha se ne ricordò e andò a teatro è probabile si disse che lei assista alle prime rappresentazioni la sala era piena come in tutti i teatri di provincia una nebbiolina si librava al di sopra del lampadario la galleria si agitava rumorosamente nella prima fila delle poltrone d'orchestra si vedevano gli elegantoni della città ritti con le mani dietro la schiena nel palco del governatore era seduta sul davanti sua figlia con un boa sulle spalle il governatore si nascondeva modestamente dietro una tenda non si vedevano che le sue mani il sipario si agitava i musicisti accordavano lungamente i propri strumenti mentre il pubblico entrava e sedeva gurof cercava avidamente con gli occhi dentro la sala anna serghevna finalmente entrò e andò a sedersi nella terza fila delle poltrone scorgendola gurof sentì una stretta al cuore comprese che nessuno al mondo gli era più vicino più caro ne aveva per lui uguale importanza quella piccola donna senza nulla di notevole perduta dentro la folla provinciale con in mano un occhialino qualunque riempiva in quel momento tutta la sua vita essa era per lui l'unica fonte di affanno e di gioia e la sola felicità che gli bramava al suono dei poveri strumenti dell'orchestra dei violini miserabili egli pensava a lei a com'era bella pensava e fantasticava entrò con anna serghevna un giovanotto molto alto corpulento un po' curvo dalle basette corte e le si sedette a fianco a ogni passo dondolava la testa come salutasse qualcuno doveva essere il marito cui una volta aialta nello sfogo di un sentimento di amarezza anna serghevna aveva dato la qualifica di lacchè e veramente con quella sua lunga figura e le basette la testa leggermente calva il suo aspetto poteva somigliare a quello di un cameriere aveva un sorriso dolce e il distintivo universitario che gli brillava all'occhiello somigliava al numero che portano i camerieri dei ristoranti al primo intermezzo andò nel fumoir e anna serghevna rimase al suo posto gurov che pure aveva una poltrona d'orchestra si avvicinò a lei e disse sforzandosi di sorridere ma con una voce che tremava vi saluto e saggettò uno sguardo su di lui e impallidì lo guardò di nuovo con terrore non credendo ai suoi occhi e con la mano strinse forte il ventaglio e l'occhialino era evidente che lottava perché le sue forze non venissero meno tacquero ambe due essa rimaneva seduta e lui in piedi sgomentato dal suo turbamento non osava sedersi vicino i violini e il flauto accordati finalmente presero a suonare ed un tratto Anna Sergevna e Gurov si sentirono invadere dalla paura sembrò loro che li quartassero da tutti i palchi essa allora si alzò e si diresse precipitosa all'uscita lui la seguì e camminarono storditi per i corridoi salendo e scendendo le scale una folla di magistrati professori o funzionari del ministero degli appannaggi tutti in uniforme con distintivi passava davanti a loro si accorgevano dai vestiti dalle pellicce delle signore sentirono una forte corrente d'aria che portava un odore di mozziconi di sigarette buttate e Gurov a cui il cuore batteva sino a spezzarsi pensava che martirio che sofferenza mio dio perché tutte queste persone questa orchestra ricordò un tratto che la sera in cui aveva accompagnato Anna Sergevna alla stazione e gli si era detto che ogni cosa era finita fra loro che mai più si sarebbero riveduti invece come erano lontani ancora dalla fine dinanzi a una piccola scala stretta e buia su cui era scritto entrata all'anfiteatro Anna Sergevna si fermò come mi avete fatto paura disse respirando a fatica pallida ancora e stupefatta ne sono quasi morta perché siete venuto più su nel pianerottolo due liceali fumavano delle sigarette e li guardavano ma Gurov perdendo la testa attirò a sé Anna Sergevna e le coprì di baci la persona il collo le mani che fate che fate gli disse lei atterritare spingendolo siamo pazzi tutti e due partite questa sera stessa subito ve ne scongiuro per quel che avete di più sacro ve ne supplico c'è qualcuno qualcuno in vero saliva le scale bisogna che voi partiate mormorò Anna Sergevna capite Dmitri Dmitrice verrò a vedervi a Mosca non sono stata mai felice non lo sono e non lo sarò mai non fatemi dunque soffrire ancora di più vi giuro verrò da voi a Mosca ma ora separiamoci mio amore mio amato lasciatemi gli serrò le mani e rapida cominciò a scendere le scale continuamente volgendosi verso di lui e si poteva vedere dai suoi occhi che veramente essa non era felice Gurov rimase un istante fermo in ascolto quando non sentì più nulla si recò al guardaroba e uscì dal teatro Anna Sergeyevna andò periodicamente a trovarlo a Mosca ogni due o tre mesi partiva dicendo al marito che andava a consultare a Mosca un grande specialista per le malattie delle donne il marito le credeva e non le credeva giunta a Mosca scendeva all'albergo il bazar slavo e mandava un fattorino ad avvertire Gurov questi la raggiungeva e nessuno ne sapeva nulla un mattino d'inverno mentre si recava da lei il fattorino era venuto la sera inanzi ma non l'aveva trovato Gurov accompagnava la figlia al liceo che era sulla strada la neve cadeva a grosse falde abbiamo tre gradi sopra zero e tuttavia vedi nevica diceva sua figlia questo perché solo la superficie della terra è calda mentre negli strati alti dell'atmosfera la temperatura è diversa papà perché d'inverno non si sente il tuono Gurov spiegò anche questo parlava e pensava che ecco era lì sul punto di recarsi ad un appuntamento d'amore e nessuno nessuna anima viva lo sapeva né probabilmente lo avrebbe mai saputo egli aveva due vite una in piena luce che vedeva e conosceva chiunque volesse vita piena di verità e menzogne convenzionali e un'altra che si svolgeva in segreto e per una strana coincidenza di circostanze forse casuale tutto ciò che era per lui importante interessante indispensabile tutto ciò che egli aveva in sé di sincero e di schietto e formava come il cuore della sua vita ecco rimaneva ignorato dagli altri al contrario quel che era menzogna e l'involucro per così dire di cui si copriva il suo impiego alla banca ad esempio le sue discussioni al circolo i suoi esseri inferiori le sue comparse in società con la propria moglie tutto questo era in piena evidenza giudicò gli altri da se stesso diffidando di ciò che vedeva e dicendosi che il velo del mistero come i veli della notte copre sempre negli altri la vera vita quella che conta ogni esistenza particolare riposa sul mistero e forse è un po' la ragione per cui ogni persona per bene tiene tanto a che si rispettino i suoi segreti dopo aver accompagnato la figlia a liceo Gurov si recò al bazar slavo lasciò da basso la pelliccia salì e bussò piano alla porta trovò Anna Sergevna con suo abito grigio che egli preferiva a tutti gli altri il viaggio e l'attesa l'avevano stancata attendeva dal giorno prima era pallida e lo guardò senza sorridere appena fu entrato venne a rannicchiarsi contro il suo petto il loro bacio fu lungo e lento come non si fossero visti da due anni ebbene le chiese che c'è di nuovo laggiù aspetta te lo dirò per il momento non posso le lagrime le impedivano di parlare si volse e portò il fazzoletto agli occhi lasciamo che si sfoghi pensò lui intanto mi siedo e si accomodò in una poltrona poi suonò e fece portare del tè mentre lo prendeva essa rimaneva in piedi voltata dalla parte della finestra piangeva per l'agitazione per l'amara coscienza della loro vita così penosa non si vedevano se non di nascosto dovevano nascondersi come dei ladri le loro due vite non erano spezzate via via smetti di piangere e gli le disse era chiaro per lui che il loro amore non sarebbe finito così presto Anna Sergeevna si attaccava a lui sempre di più lo adorava e sarebbe stato insensato dirle che il loro amore sarebbe finito non ci avrebbe creduto le si avvicinò e la prese tra le braccia la coprì di carezze la consolò e scorse sedi improvviso nello specchio il suo capo cominciava a incanutire fu colpito nel vedersi tanto invecchiato e imbruttito in quei pochi ultimi anni le spalle di Anna Sergeevna che sentiva sotto le sue mani erano calde e tremanti provò compassione per quella vita ancora così calda e così bella che come la sua avrebbe cominciato ben presto in maniera evidente ad appassire e avvizzire perché lei lo amava tanto egli era sempre apparso alle donne diverso da quello che era non era lui che si amavano ma un essere creato dalla loro immaginazione e che si cercavano avidamente in tutta la loro vita dopo pur accorgendosi del loro errore continuavano lo stesso ad amarlo e non una era stata felice con lui il tempo passava egli faceva nuove conquiste se ne stancava e non aveva mai amato realmente tante cose c'erano state in quelle relazioni ma amore mai solo adesso che la sua testa diveniva grigia amava realmente sul serio per la prima volta nella sua vita Anna Sergeevna e lui si amavano come due esseri molto vicini l'uno all'altro intimi come un marito e una moglie e come due teneri amici sembrava loro che la sorte li avesse destinati l'uno all'altra ed era incomprensibile che lui fosse ammogliato lei maritata una cosa mostruosa erano come due uccelli migratori maschio e femmina presi insieme e messi in due gabbie separate si perdonavano vicendevolmente tutto ciò di cui si vergognavano nel loro passato e sentivano che il loro amore li aveva entrambi trasformati un tempo Gurov si consolava nei momenti di tristezza con ogni sorta di argomenti che gli venivano in testa ma ora non pensava più a ragionare provava una profonda compassione voleva essere sincero e tenero via smetti di piangere povera cara disse hai pianto abbastanza parliamo un po' troveremo qualche cosa discorsero lungamente discutendo sul modo di non avere più da nascondersi di continuo da mentire da vivere in due città diverse divisi così a lungo l'uno dall'altra e di rompere tutti quegli insopportabili ostacoli come fare chiedeva lui disperato come e pareva che la soluzione fosse quasi a portata di mano dopodiché sarebbe cominciata una vita nuova meravigliosa ed entrambi si rendevano chiaramente conto che la fine era ancora quanto mai lontana e che le complicazioni e le difficoltà maggiori dovevano ancora cominciare